Hare Krishna, bentrovati a tutti, bentrovati. Sono davvero lieta di essere qui questa sera e ringrazio per l'invito, per passare insieme un'ora a una satsanga di fronte alle divinità che considero una occasione davvero speciale per me e per tutti voi, spero. Io sono Natalina, niti a mangiare i dasi, e sono qui stasera per condividere con voi una tematica a me molto cara, che è la ricerca di libertà nell'universo interiore. Una tematica veramente importante per ognuno di noi dal punto di vista psicologico e spirituale. psicologico perché consente di conoscerci meglio, al fine di gestire al meglio le nostre risorse interiori, superare i nostri limiti e soddisfare le nostre aspirazioni più profonde. quindi per alla ricerca della libertà non vi ho invitato a fare un'escursione sull'Himalaya piuttosto che nel Pacifico perché dico questo? Perché per la maggior parte delle persone la libertà è andare lontano e lontano e fare anche cose eclatanti, insolite e invece io vi invito a ricercare questa libertà nel vostro universo interiore. oggi c'è molta confusione semantica rispetto a questo tema a questo termine, scusate, il termine della libertà come c'è confusione semantica rispetto al termine amore al termine tolleranza, compassione, perdono e quindi io desidero aiutarvi a fare chiarezza su il significato di questo termine libertà e partiamo dalla definizione così giusto per poggiare le basi del discorso che affronteremo insieme la libertà è considerata la capacità di agire o di non agire senza costrizione senza oppressione da parte di persone esterne o agenti esterni diciamo in generale al fine di progettare di individuare degli obiettivi e anche in modo autonomo e trovare i mezzi gli strumenti per conseguire questi obiettivi e ho ricercato anche il termine libertà in sanscrito nella lingua sanscrita che è la lingua di molte opere della tradizione indiana tra cui la Bhagavad Gita Bhagavata Purana e altre e il termine libertà viene indicato con Sva Tantra che significa Tantra dipende da dipende solo da e Sva che significa da sé dipende da sé magari questa potrebbe essere una definizione che non è di immediata comprensione ma sono qui appunto per per spiegarla e mentre la definizione diciamo così occidentale si si rifà a alla libertà da persone diciamo agenti esterni in modo che la persona appunto sia libera di scegliere di progettare di ideare la definizione della lingua sanscrita il termine sanscrito Sva Tantra è una ha un significato più sottile più profondo e e implica anche una differenza sostanziale tra le due definizioni perché Sva Tantra significa dipendere solo da noi stessi dipendere solo da noi stessi in che cosa rispetto a che cosa rispetto al pensare rispetto all'agire al scegliere al desiderare e al parlare dipendere solo da noi nell'altra definizione c'è la libertà da agenti esterni ma vorrei portare la vostra attenzione anche con la lettura di alcuni shloka della Bhagavad Gita che per conseguire la libertà a cui l'uomo la donna intendo ha sempre aspirato perché la libertà libertà ha anche la radice come il verbo libet che significa è piacevole è gradito qualcosa che si fa volentieri infatti tutti abbiamo fatto esperienza che quando facciamo qualcosa in libertà ci dà soddisfazione ci troviamo bene ci dà appunto soddisfazione ci piace quando invece facciamo qualcosa perché siamo costretti o ci è imposto da altri non lo facciamo volentieri quindi l'attenzione dicevo che vorrei portare la vostra attenzione sul fatto che la libertà interiore la si consegue non solo non avendo nessuno che ci impone qualcosa perché non sono solo gli altri dall'esterno che ci possono condizionare e limitare nella nostra espressione libera della nostra personalità dei nostri desideri perché c'è una parte di noi che vorrei dire molto più condizionante di quanto possano condizionarci altre persone magari a qualcuno sarà già familiare questo discorso qualcuno che ha approfondito la Bhagavad Gita o altri testi generalmente appunto qui in occidente in questa cultura in questo momento storico si ritiene che la libertà sia non avere imposizioni dagli altri senza trascurare le imposizioni addirittura uso proprio questo termine le costruzioni che vengono da dentro noi stessi da dove è che vengono allora secondo la tradizione della Bhagavad Gita e della tradizione dello yoga tutto proprio trasversalmente l'essere umano consta di tre piani antropologici il fisico il corpo che noi conosciamo la struttura psichica quella che in occidente viene definitamente e poi l'essenza spirituale atma l'essenza spirituale che ha le caratteristiche di sat citta ananda quindi di eternità sat citta consapevolezza coscienza e ananda beatitudine ed è e visto che parliamo di libertà e quindi anche caratterizzato da da libertà da purezza da libertà come scrive il nostro acciaria fondatore del movimento per la coscienza di Krishna Bhaktivedanta Swami Prabhupada dice l'essere è puro è da sempre eternamente puro e libero e quindi i condizionamenti le costrizioni che non vengono dall'esterno da quale parte di noi provengono vi è mai capitato di essere in una situazione e seppur qualcuno dall'esterno non vi imponeva niente ma voi avete sentito qualcosa che non vi faceva agire liberamente secondo il vostro desiderio scusa Gurucciana chiedo se io mi giro così va bene per il microfono posso girarmi o la voce si si sente bene no perché ho detto che registravano quindi ho chiesto da dove può venire questo condizionamento questo e quando ci sono dei condizionamenti in atto non siamo liberi ad esempio voi pensate di poter scegliere liberamente quando provate un senso di colpa scegliete liberamente siete liberi di scegliere oppure quando siete in preda alla collera alla paura all'ansia pensate di poter pensate di essere liberi e quindi di poter scegliere liberamente secondo voi no perché una persona che è in preda alla collera non potrà scegliere le parole da dire un'altra persona ad esempio quindi non è libero di dire quello che effettivamente vorrebbe no più profondamente infatti quante volte ci capita di parlare se non in preda alla collera ma può essere anche il risentimento alla paura dire cose di cui poi noi ci pentiamo e quindi vuol dire che abbiamo parlato ma non eravamo liberi ma infatti oggi in questo momento storico così frenetico dove andiamo tutti di corsa e mille cose da fare non c'è un momento per fermarci molto spesso entra in gioco la mente reattiva quindi di fronte a uno stimolo la persona risponde in modo coatto in modo automatico senza poter effettivamente scegliere senza essere libera di scegliere quello che vorrebbe dire o quello che vorrebbe fare o quello che vorrebbe pensare o desiderare e quindi per quello vi ho invitati a fare un viaggio alla ricerca della libertà nell'universo interiore perché è nel nostro universo interiore che possiamo trovare la libertà e se noi ci fermiamo alla mente ai contenuti della mente quindi emozioni come ho detto paura rabbia collera ansietà invidia e noi se noi ci identifichiamo con queste emozioni ma anche con certi desideri con certi pensieri sicuramente ci priviamo della libertà che invece ci appartiene da sempre e per sempre infatti Krishna nella Bhagavad Gita nel terzo capitolo ventisettesmo Shloka dice l'anima spirituale sviata dall'influenza del falso ego crede di essere l'autrice delle azioni che in realtà sono compiute dai Guna guardate che è un'affermazione molto forte e noi crediamo di essere liberi di poter scegliere di poter di poter scegliere di poter decidere quando sono i Guna ad agire l'argomento dei Guna è trasversale a tutta la Bhagavad Gita perché inizia già nel secondo capitolo e poi fino al diciottesimo in particolare nel quattordicesimo e diciassettesimo approfondisce il tema dei Guna e comunque vi ho citato questo perché mi ha fatto tanto riflettere che in realtà le azioni sono compiute dai Guna ma dicevo ma allora l'anima spirituale non agisce come è la questione non riuscivo a raccapezzarmi ma riflettendo studiando confrontandomi con altre persone come stiamo facendo anche adesso sono arrivata a comprendere che quando l'anima l'anima di per sé è sempre pura è sempre libera come dicevo mai condizionata ma quando c'è l'identificazione con la prakriti e attraverso la struttura haam kara che è il falso ego ecco che allora l'anima crede di essere autrice di quelle azioni ma di quelle azioni condizionate perché certo che l'anima può agire l'anima è la vita e l'essenza spirituale è la vita ma per arrivare proprio a far sì che l'anima scelga noi dobbiamo liberarci da sovrastrutture che si sono formate nel corso del tempo e si sono depositate nella parte più profonda della psiche nel karma ashaia e quindi pensate le persone credono di essere liberi e sono i guna ad agire che cosa sono i guna un piccolo approfondimento poi al banco degli strumenti didattici potete trovare tanti libri di Shila Prabhupada e quindi potrete approfondire queste tematiche a cui io accenno nella Bhagavad Gita stessa ecco qui la Bhagavad Gita penso che la maggior parte di voi la conosca che cosa sono i guna i guna sono tre energie archetipe strutturanti la materia quindi quando io parlo di materia di prakriti tutto quello che ci circonda il tavolo il microfono il pavimento il mio corpo stesso fatto di prakriti è formato dai guna non sono proprio sinonimi ma se dico prakriti intendo i guna che la costituiscono e i guna formano la prakriti c'è questa uguaglianza e sono tre guardate che guna ha varie accezioni questo termine vari significati più forti più deboli uno delle accezioni più forti è corda e questo la dice lunga la corda perché cosa viene utilizzata per legare poi anche altri significati come qualità colori eccetera ma corda e allora abbiamo tamas che si può tradurre in vari modi con letargia con pigrizia con coscienza obnubilata anche torpore mancanza di visione mancanza di progettualità lentezza generalmente viene assimilato non nella Bhagavad Gita nella tradizione alchemica ad esempio con il colore nero quindi la pesantezza la mancanza di visione perché la coscienza è tutta settata sulla materia e comunque anche sulla situazione che la persona sta vivendo quella che è influenzata maggiormente da tamas poi c'è rajaf che invece è dinamismo impulso ad agire velocità capacità progettuale bramosia desideri ardenti e generalmente che colore vi viene in mente con le parole che ho detto rosso bravi rosso è come il fuoco no e poi c'è satva che è bontà è lungimiranza è pulizia è visione quindi la capacità di non solo di vedere come rajas ma anche di prevedere e questa è una qualità molto importante per districarci al meglio in questa vita incarnata e luminosità bontà l'ho detto e altri equilibrio ad esempio e quindi la materia è formata da queste qualità ma ha la capacità proprio perché è costituita da Iguna di legare legarci alla materia ma nella misura in cui noi ci facciamo legare da Iguna ecco che non saremo più noi ad agire ma saranno Iguna infatti Krishna dice azioni che in realtà sono compiute da Iguna e in questo caso non c'è libertà e come fare allora? La materia è la prakriti è un'energia divina infatti Krishna nell'ottavo capitolo Deci Moshloka mi sembra dice io sono l'origine di tutto di tutti i mondi materiali e spirituali tutto promana da me e quindi Krishna è l'autore per così dire colui che manifesta la prakriti e quindi Iguna e Iguna che però se noi non ci rapportiamo in modo corretto ad essi quindi alla materia ci legano ci incatenano e quindi ci prendono ci tolgono la libertà a differenza di altre opere che fanno delle analisi che hanno fatto pensiamo agli esistenzialisti che hanno fatto delle analisi approfondite dei problemi dell'uomo dei problemi esistenziali senza però trovare una sintesi quindi una soluzione ai problemi e anche un po' al giorno d'oggi ci si parla tanto di certi problemi però in dialetto si dice non so se anche da queste parti strucca strucca poi alla fine non viene data una soluzione per fortuna invece nella Bhagavad Gita Krishna ci dà anche la soluzione per fare in modo di rapportarci alla prakriti d'altra parte come possiamo farne a meno io adesso sto usando il microfono sono seduta su una sedia i miei piedi poggiano sul pavimento più tardi è così anche voi più tardi consumeremo una cena prassada cibo benedetto e poi il nostro corpo è prakriti e anche la nostra struttura psichica è prakriti quindi noi non possiamo visto che siamo arrivati qui in questa vita incarnata non possiamo liberarci da iguna siete d'accordo su questo perché la nostra mente stessa è formata da iguna e quindi noi non riusciamo a liberarci ma ci arriveremo tra un po' Krishna ci mostra la via come utilizzare i iguna al meglio perché i iguna sono utili all'inizio quando ho iniziato il mio percorso scusate la ripetizione mi ero fatta l'idea che i iguna erano qualcosa contro di me perché legano perché tolgono la libertà non avevo compreso bene l'utilità dei iguna pensate che questa manifestazione cosmica questo mondo è opera di Dio quindi Dio che è buono diciamo nel senso più elevato del termine quello che fa lo fa bene e quindi è buono anche questo mondo dipende da noi come lo lo utilizziamo ad esempio un coltello è buono o cattivo un coltello secondo voi come e da cosa dipende allora il fatto che è buono cioè utile no oppure cattivo nel senso che ci danneggia come bene da come lo usiamo da come lo usiamo perché con un coltello possiamo uccidere una persona e viceversa anche salvare una persona se bisogna amputare una gamba ad esempio no oppure preparare del cibo del cibo da offrire al Signore e così anche i guna che servono per la creazione e com'è che il Signore Shiv Krishna ha manifestato questo mondo attraverso proprio con la sua intenzione ma attraverso l'opera dei guna quindi attraverso Rajya Satva e Tamas chi conosce un po' approfonditamente il Samkhya che è mutuato della Bhagavad Gita infatti gli insegnamenti della Bhagavad Gita anche questi dei guna la Bhagavad Gita li ha mutuati dal Samkhya e attraverso appunto l'intervento di queste energie il Signore ha potuto manifestare questa creazione che non è una creazione ex nihilo cioè dal nulla ma avviene per trasformazione di energie ecco prima di arrivare proprio al segreto che Krishna spiega in diversi punti della Bhagavad Gita in particolare io mi riferirò allo Shloka 714 vediamo cosa fare intanto i come si dice i prerequisiti i pronego sì i prerequisiti per arrivare alla alla libertà dei guna perché vedete non li possiamo eludere per quello che ho spiegato perché sono parte strutturante della prakriti di noi stessi non dell'essenza spirituale ma quindi non li possiamo ignorare non li possiamo eludere ma li possiamo trascendere trascendere ecco questo è un concetto che magari non non è non viene compreso al meglio trascendere non vuol dire negare vuol dire ignorare no vuol dire comprenderli quindi accogliere il concetto dei guna ma andare oltre quindi accogliamo che ci sono questi guna che ci condizionano nella misura in cui noi ci rapportiamo ad essi in modo non corretto diciamo così e e loro ci privano della libertà ma andiamo andiamo oltre infatti non so se conoscete questo termine jiva mukta il liberato in vita mukta liberato infatti lo scopo della vita secondo i veda è proprio il fine ultimo è moksha la liberazione mukta è partecipio passato il liberato in vita da che cosa si è liberato si è liberato dalla presa vischiosa dei guna quindi li utilizza certo che per dormire tamas è necessario se no saremo continuamente in movimento poi per per muoverci per progettare per compiere delle attività abbiamo bisogno di rajas e abbiamo anche bisogno di sattva quindi dell'equilibrio della della lungimiranza come dicevano per la attuare la miglior progettualità della nostra vita e è importante che noi li utilizziamo per vivere al meglio qui sapendo però che non sono il fine della vita anzi vanno superati poi magari con le vostre domande avrò anche modo di approfondire e quindi come ci dobbiamo predisporre per riacquisire non acquisire riacquisire la libertà a cui tutti noi aneliamo profondamente perché fa parte della nostra natura è proprio una nostra caratteristica ontologica da sempre e per sempre abbiamo da fare un percorso quindi da tamas a rajas a sattva per poi trascendere anche sattva perché sattva che la persona che ha le caratteristiche sattviche è piacevole è buona si comporta in modo corretto è responsabile e per certe tradizioni quello è il fine della vita comportarsi in modo così secondo la tradizione dello yoga quello è dico yoga perché non so se lo sapete che la Bhagavad Gita è uno dei testi fondamentali dello yoga infatti è il testo che contiene più volte la parola yoga circa 200 volte intendendo qui per yoga quella via quella metodo che serve per ricollegarci all'essere supremo a Shikrishna nella relazione d'amore che ci lega da sempre e per sempre ma che per vari motivi per nostre scelte noi abbiamo disatteso e quindi siamo qui e credo tutti oggi per cercare di recuperare al meglio questa relazione d'amore con Dio che poi l'amore o è per tutti o non è va da sé che poi questo amore noi lo riverseremo sulle creature e sul creato e quindi si dicevo come testo dello yoga io vi ho enucleato alcuni punti per arrivare poi allo shloka e al punto cruciale del conseguimento della libertà da iguna da parte nostra e quindi di riacquisizione della libertà allora la gestione ho enucleato questi punti la gestione della mente non mi piace dominio a me personalmente perché sembra coercitivo qualcosa che viene imposto invece gestione significa imparare a stare di fronte alle nostre emozioni senza esserne senza esserne travolti quando magari Rajas vorrebbe a tutti i costi farci fare quella cosa ma dentro la nostra vocina della coscienza dice no guarda quella cosa ti danneggerà danneggerà te e gli altri e però non riusciamo a gestire la mente che ci trascina come ci trascina proprio non so qui abbiamo tutti una certa età che più che meno penso che tutti avrete fatto qualche volta questa esperienza infatti a questo proposito che la mente a volte ci trascina a fare delle cose anche contro la nostra volontà c'è Arjuna che assieme a Krishna è coprotagonista della Bhagavad Gita che nel terzo capitolo trentaseiesmo Shiloka chiede proprio Arjuna a Krishna ma cos'è che che fa agire l'uomo l'uomo intende la donna anche contro la sua volontà scusa anche contro la sua volontà e Krishna dice Kama Hesha Kroda Hesha Raja Gunas Buddha e tira in ballo menziona il Guna Rajas qui ci sarebbe tanto da dire ma non posso allargarmi più di tanto perché ho anche piacere di darvi lo spazio per le domande E quindi gestire la mente. E a un certo momento, quando Krishna ha spiegato la via dello yoga per la gestione della mente, Arjuna dice, è interessante questa via dello yoga, però a me, dice Arjuna, gestire la mente sembra più difficile che dominare il vento. Per il motivo che ho detto prima, no, per via di questi, una in particolare di Rajas. E Krishna non è che dice, ah, Arjuna, ma che sciocco che sei, ma cosa dice? No, no, è veramente difficile, tuttavia è possibile attraverso Abhyasa e Vairag, cioè la pratica costante e il distacco emotivo. Lo so che per tante persone non riescono neanche a concepire di poter rimanere di fronte a certe emozioni senza rispondere in modo automatico o comunque senza farci travolgere. Però con la pratica costante è possibile. Ad esempio la pratica della recitazione dei nomi divini, la recitazione del mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E questi nomi divini sono una manifestazione di Dio stesso, quindi carichi di energia spirituale e l'energia spirituale può avere la meglio, diciamo così, sui Guna che fanno parte dell'energia materiale, pura energia divina, come dicevo, sempre energia divina, ma diciamo di livello diverso. Quindi la pratica dei santi nomi, lo studio delle scritture. Infatti c'è un termine che usa anche Krishna nel diciassettesimo capitolo della Bhagavad Gita, quando parla delle scesi della parola, quindi dell'utilizzo di quella parola che ci eleva, che eleva noi, che pronunciamo quelle parole, e eleva anche chi li ascolta, dice che la parola deve essere veritiera, pronunciata in modo gradevole, a beneficio di tutti e poi aggiunge suadyaya, che significa studio giornaliero di sé. Uno dice, ma che cosa, non è mica una qualità della parola suadyaya. Perché Krishna lo mette lì? Perché noi non possiamo pensare di utilizzare parole veritiere, gradevoli, gentili, rispettose dell'altro, del nostro interlocutore, e a suo beneficio, senza che noi attuiamo, pratichiamo costantemente, appunto il canto dei santi nomi, lo studio delle scritture, le opere dei maestri, come Bhaktivedanta Swami Prabhupada, che dicevo prima, e anche attraverso la compagnia, il satsanga. Anche il satsanga è un metodo formidabile per imparare a gestire la mente, quindi gestire i guna, e al fine di acquisire la nostra libertà, in modo che le scelte che noi facciamo siano non più dettate dalla mente, ma dai nostri condizionamenti, come dicevo prima, da certe emozioni, ma proprio che siano le scelte della nostra essenza spirituale, che poi di noi stessi, che siano le nostre vere scelte. Ecco perché il termine svatantra che dicevo prima, quindi noi dovremmo dipendere, per le nostre scelte, solamente da noi stessi, ma non in senso egoistico, dipendere solamente dalla nostra essenza spirituale. E questa è dove la troviamo, nell'universo interiore. Poi, quindi la gestione della mente, sviluppo del distacco emotivo, bairagia, e poi lo sviluppo delle qualità, che in realtà ci appartengono da sempre e per sempre, solo che alcune le abbiamo un po' perse per strada, non perse, ma sono un po' nascoste, coperte da errori e errori che abbiamo fatto. man mano che noi ci siamo allontanati coscienzialmente dal nostro vero sé. Qualità, e pensavo proprio per parlarvi delle qualità, le qualità che Bhaktivedanta Swami Prabhupada ci ha mostrato, perché vedete, è importante sapere quali sono le qualità da sviluppare per il nostro percorso, alla fine di realizzarci spiritualmente, ma quello che è importante è anche avere un modello, un modello che incarni queste qualità, perché allora per noi è più facile praticarle, altrimenti potrebbero anche risultare astratte, e quindi pensando a Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ho pensato all'umiltà, ho pensato alla determinazione, conoscete un po' tutti, penso che conoscano un po' la vita di Prabhupada, l'umiltà, perché lui, che era una persona molto evoluta spiritualmente, si è adattato, mi viene da dire così proprio con umiltà, a fare un viaggio, quando è su, per volere seguire l'insegnamento, l'indicazione data dal suo maestro Bhaktivedanta Sarasvati, e che era quella, no, di andare nei paesi di lingua inglese e portare la coscienza di Krishna, si è adattato a fare un viaggio così lungo, dall'India all'America, su una nave merci, e con tutti i disagi che può portare, poi si è adattato a essere ospite di una famiglia, e poi adattarsi a vivere in un appartamento molto piccolo, molto, mi sembra una grande umiltà per la persona che lui era. Poi la determinazione, nonostante le difficoltà, quando è partito dall'India, lui aveva già avuto problemi di cuore, un attacco di cuore, uno ce l'ha avuto anche durante il viaggio, e mi ha colpito molto leggendo la sua biografia, penso che ce l'avete anche qui, vero, Uruciara? Sì? La Prabhupada Lila Marita, diciamo la biografia per dire, parole semplici, mi ha colpito questo aspetto e con questo desidero mettere in risalto la sua determinazione a portare anche in Occidente la coscienza di Krishna, che per lui era l'essenza della sua vita, che una volta arrivato in America e trovava queste difficoltà, adesso non posso raccontarvi tutto, e ogni tanto andava al porto per vedere quale sarebbe stata la prossima nave, in partenza per l'India. Andava? E andava, guardava, andava al porto, guardava, stava un po' sulla banchina, guardava le partenze, però poi, ricordandosi dell'insegnamento del suo maestro spirituale, diceva io, lui mi ha dato questo incarico e rimango, e quindi la determinazione dritti, in sanscrito dritti, a portare avanti questo, ad assolvere il compito che il suo maestro gli aveva dato. Quindi l'umiltà, poi la compassione, pensate i primi suoi, anche discepoli, le prime persone che lui ha accolto erano persone anche, diciamo, in difficoltà, persone un po' con diversi problemi, di vario genere. E lui però, proprio in virtù della sua compassione, che è la qualità che spicca in una persona evoluta e realizzata, e lui ce l'aveva appieno questa compassione nei confronti di chi che sia. E quindi la misericordia, perché sapete la differenza che c'è tra compassione e misericordia? La compassione è che sento la sofferenza dell'altro, ho anche la gioia, sto nel sentire dell'altro. Karuna, in sanscrito. E poi Kripa è la misericordia, in virtù di quello che sento, desidero aiutarti. E lui era compassionevole e misericordioso. Magari la prossima volta, se vengo un'altra volta, potrò raccontare, parlare un po' delle qualità spirituali. E quindi lo sviluppo di queste qualità. Nella Bhagavad Gita le trovate in diversi capitoli, poi se avete bisogno di qualche riferimento particolare, c'è Guru Chara qui, che ve le può dare. Io mi fermerò anche dopo cena, se avete piacere, o altre volte che ci incontreremo, potrò darvi qualche indicazione, spiega le qualità. Perché le qualità permettono di fare il viaggio, da Tamas a Rajas, Satva, per arrivare poi a Satva puro. E quindi lo Shloka, passa il tempo velocissimo qua. Il 7.14, ve lo voglio leggere da qua direttamente, veramente un grande messaggio di speranza per noi, che ci mostra come, che ci mostra appunto la grande compassione infinita, compassione e misericordia, da parte di Sri Krishna. Ve lo leggo direttamente in italiano, perché non c'è tanto tempo. E dice Krishna, questa mia energia divina, si sta riferendo alla Prakriti, costituita dai tre influssi materiali, è difficile da superare. Infatti, per dire quanto difficile è da superare, usa questo termine, che è quasi onomatopeico, e dice Duratiaia. Che cosa vi fa venire in mente Duratiaia? È proprio dura, no? Dura, difficile da superare. Perché è un'energia divina, è potente, ma coloro che si abbandonano a me, ne varcano facilmente i limiti. E quindi, ecco che ci ha dato la chiave di volta per uscire dal condizionamento dei Guna, dal condizionamento della Prakriti, e poter acquisire appunto la liberazione, e non solo, ma sviluppare anche il puro amore per Dio. Che cosa significa abbandono? Perché anche abbandono magari non è un po' più chiaro per tutti, magari per voi sì, che siete qui. Non è come mi abbandono, beh, mi butto dalla finestra, no? Oppure, sì, signore, io mi abbandono a te, mi abbandono. È un processo, è un processo, non è un punto di partenza, ma è un punto di arrivo. che implica dedizione, vorrei dire conoscenza prima, perché attraverso la conoscenza, lo studio delle scritture, noi impariamo a conoscere Dio, a conoscere le sue qualità. Perché come si fa a amare una persona che non si conosce? È importante la conoscenza, la conoscenza spirituale, perché ci fa conoscere Dio? le sue qualità e fare in modo che pian piano noi possiamo innamorarci di Lui. E poi la dedizione, quindi dedicarci a Dio. Dedicarci, quindi, dedicargli le nostre opere in spirito di offerta, pensieri e emozioni. E attraverso la conoscenza, la dedizione, la devozione, ovvero concentrare tutte le nostre migliori energie psicofisiche per connetterci a Lui. dedicargli ogni opera, pensieri, emozioni e attraverso la conoscenza, la dedizione, la devozione, ecco che possiamo sviluppare l'amore per Lui, Lui ce lo promette in vari versi della Bhagavad Gita e così possiamo vivere felici, liberi, visto che è il tema della serata, ma felicità e libertà vanno di pari passo, non sono cose diverse, perché uno che è libero interiormente è felice e se è felice vuol dire che è libero interiormente, altrimenti non può essere, perché se c'è legame con la materia c'è dipendenza questa crea molta sofferenza e non felicità. Mi fermo qui, ci sarebbero tante cose da dire, ma spero che ci saranno altre occasioni. A voi. grazie. grazie. grazie.